Carosino, 53esima Sagra del Vino, dal 22 al 25 agosto 2019 Sembra un sogno del Dio Bacco, da una fonte sgorga vino, nella piazza a Carosino Giovedì 22 ore 20 e 30, piazza Vittorio Emanuele III, cerimonia inaugurale con l'accensione della Fontana Monumentale Zampillante Vino e Saluti Istituzionali Non solo vino e degustazioni, ma anche agricoltura, storia, cultura, tradizioni, dibattiti, marketing territoriale, attività produttive, associazionismo, sociale, fotografia, pittura, danza e musica Nelle quattro serate in piazza sarà allestito un percorso enogastronomico, oltre alla ruota panoramica e ad altre attrazioni Vi aspettiamo!